Amici miei, già che sto preparando gli esami, sono proprio nel pieno della sessione invernale e do la voglia di vivere di un tifoso di una squadra che in settimana lancia hashtag per far fuori una squadra e poi nel weekend pareggio in casa contro squadre della minchia, proprio oggi è arrivata la botta finale, la botta decisiva che può anche farmi compiere l'insano gesto perché la Juventus pare abbia piazzato il colpo d'Armian, colpo proprio credo veramente sia il termine adatto in queste circostanze, altri termini onestamente non me ne vengono ed ovviamente nel momento in cui arriva d'Armian, un terzino sinistro, pare che Spinazzola sia in partenza direzione Bologna e io mi sono fatto un'idea, a parte quella del suicidio che è quella adesso la tralasciamo un attimino, io mi sono voluto fare quest'idea e spero che le cose andranno effettivamente in questa maniera qui. Magari la Juventus ha anche giustamente valutato il fatto che Spinazzola comunque ha bisogno di minutaggio perché è reduce da un'infortuna importante e noi di fatto l'abbiamo visto solamente per 90 minuti quindi ci sta che vada in una squadra come il Bologna a fare un pochino di minutaggio per tornare pronto la prossima stagione e quindi mi sono fatto quest'idea qui. La Juventus prende in prestito d'Armian dal Manchester United, prestito neroso tra l'altro per 3 milioni, 4 milioni però è un prestito neroso e già questa è una bestemmia, abbiamo deciso di fare l'ennesimo regalo allo United dopo la qualificazione in Champions League però io mi auguro che la Juventus si limiterà a fare questo regalo di 3-4 milioni quelli che saranno poi a fine stagione lo accomoda dove vuole però sicuramente non alla Juventus. Io spero che la Juventus abbia fatto questa mossa per illudere un pochino lo United, prestito neroso per fare il regalo l'ennesimo con diritto di riscatto che fa culo e basta solamente per fare un pochino di minutaggio a Spinazzola al Bologna. Ecco così lo capisco. Allora una cosa deve essere chiara. Spinazzola è meglio eh. Spinazzola Monco è meglio in my personal opinion. Però effettivamente Spinazzola ha anche bisogno di minutaggio. Questo è fuori questione. Noi facciamo venire sto scappato di casa. Cioè Darmian dai purino perché non bisogna trattarli male più o meno. Noi facciamo venire giustamente Darmian. Gli fai fare quelle partite contro la Spal, contro l'Empoli, contro il Cagliari. La Coppa Italia no perché ci sono squadre abbastanza insidiose e non so eh. Però gli fai fare quelle partite lì proprio quando Alexandro ha la necessità di riposare. Poi eventualmente c'è anche De Sciglio da piazzare a sinistra e basta. Cioè non deve essere più di quello. Deve essere solamente un ennesimo regalo allo United. Quei 3-4 milioni per sei mesi perché ti hai bisogno di far giocare Spinazzola in un'altra squadra. È buona. Stop. Basta. Io mi auguro sia una roba del genere. Io mi sono fatto questo film nella testa e spero effettivamente andrà a finire così perché altrimenti no voglio dire altrimenti alla fine. Detto ciò io vi mando un abbraccio. Non vi chiedo che cosa ne pensate di Darmian perché se mi dite ma secondo me non è male vi blocco e basta. E niente domani se tutto va bene esce il post partita. Se non esce il post partita ho compiuto l'insano gesto. Ciao.